Ciao a tutti, grazie per l'invito. Io proverò a farmi un fermento più breve, perché Andrea ha messo tantissima carta a fuoco, quindi io dentro ho bisogno di concentrarmi su questa tematica riguardante la precarietà, io vorrei concentrarmi così per avviare una discussione collettiva fondamentalmente su un punto che a me sembra essere in questo momento, allo stato attuale, il punto un pochino più significativo sul quale ragionare. Cioè capire come nella situazione attuale la questione della precarietà, per fronte al liceo dei risi, in realtà si modifica anche radicalmente. Noi veniamo tutti, insomma, molti compagni che vi riconoscono vengono da un percorso di attivismo, di movimento dei precari che dalla metà degli anni 90...